E arriva la conferma da parte della coppia, dopo 20 anni di matrimonio Francesco e Ilari hanno deciso di separarsi. È tutto vero Francesco Totti e Ilari Blasi si separano. Il pomeriggio odierno è stato sconvolto dall'annuncio di Dago Spia confermato in serata dalla coppia con un comunicato rilasciato a Lanza. Dopo 20 anni insieme e tre splendidi figli ha dichiarato Ilari il mio matrimonio con Francesco è terminato. Il percorso della separazione rimarrà comunque un fatto privato e non seguiranno altre dichiarazioni da parte mia. Invito tutti a evitare speculazioni e, soprattutto, a rispettare la riservatezza della mia famiglia. Il percorso della separazione aggiunge la conduttrice rimarrà comunque un fatto privato e non seguiranno altre dichiarazioni da parte mia. Invito tutti a evitare speculazioni e, soprattutto, a rispettare la riservatezza della mia famiglia. Ho tentato di superare la crisi del mio matrimonio, ma oggi capisco che la scelta della separazione, pur dolorosa, non è evitabile aggiunge poi Francesco Totti. Tutto quello che ho detto e fatto negli ultimi mesi è stato detto e fatto per proteggere i nostri figli, che saranno sempre la priorità assoluta della mia vita, ha spiegato l'ex capitano della Roma. Continuerò a essere vicino a Ilari nella crescita dei nostri tre meravigliosi figli, sempre nel rispetto di mia moglie. Confido nel massimo rispetto della nostra privacy, soprattutto per la serenità dei nostri figli. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione!